Take it easy, take it slow We can do it just like before So take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo unissimo video, io sono Cecchinato e oggi siamo in un video velocissimo per andare a vedere come ottenere gratis queste due varianti Che sono quella della skin di Masterchef e quest'altro personaggio che è di un altro videogioco che ora mi sfugge il nome Comunque li potrete ottenere ragazzi semplicemente facendo questi semplicissimi passaggi Innanzitutto non serve l'Xbox, come ben sapete infatti per ottenerli questi stili in teoria dovreste avere l'Xbox Ma questa volta non serve, andate sul sito Xbox Cloud che vi metto il link qua sotto nei commenti o in descrizione adesso vedo E poi praticamente vi fate l'account ovviamente Microsoft Una volta fatto questo il gioco è fatto Installate Fortnite tramite il link che vi darò e poi praticamente una volta scaricato Io lo sto facendo dal mio PC ma potete anche farlo mi sembra dal vostro dispositivo Apple e forse anche Android se non erro Io comunque per comodità lo faccio ovviamente su Windows Ma in questo momento è come se fossi da Xbox Infatti io premo adesso via, questo è il mio account mysocroft che l'ho fatto al volo e siamo praticamente come diciamo fossimo in una console Noi colleghiamo, vedete adesso l'account, lo faccio al volo e poi una volta che mi son collegato ritorniamo Benissimo ragazzi mi son collegato ovviamente sul mio account principale Quindi quello ovviamente dove ho tutte quante le skin quindi non sbagliate mi raccomando Se no gli stili vanno in un altro account ma non credo che tanto abbiate in altri account la skin di Masterchef eccetera Quindi in realtà non è assolutamente un problema Ora proviamo a vedere se è vero quindi ma dovrebbe essere assolutamente così Anche perché ho visto tantissima gente che l'ha fatto Quindi credo che sia tutto quanto a posto Attenzione abbiamo un trailer quindi vabbè lo skipiamo Vediamo un attimo non so se mi compare subito a schermato o meno vediamo Va bene trailer l'abbiamo capito bellissimo Altro trailer della crew va bene anche questo Vediamo un po' dai dai vediamo Eccolo qua ragazzi guardate bello Masterchef colorato di nero Intanto c'è il volume a palla comunque io ve l'ho tolto quindi in teoria non dovreste sentirlo Eccolo qui senza avere un xbox ragazzi abbiamo Masterchef colorato di nero E potete farlo ovviamente anche con l'altra skin qualora l'abbiate Ok quindi adesso l'ho riscattato ragazzi Possiamo anche andare comunque qua sulle skin E ce l'abbiamo sicuro al 100% Ve lo faccio giusto vedere da qui Eccolo qui variante nero opaco che è veramente molto molto più bello E poi ragazzi ovviamente qualora non abbiate le skin e volete usufruire di questo vantaggio qui Potete anche prenderla la skin adesso nel negozietto infatti guardate un po' qui la potrete prendere Insieme ovviamente anche a Marcus Fenix che anche lui dispone ovviamente della variante nera Infatti se io adesso lo vado a prendere mi darà anche quella variante Però mi hai detto sinceramente non interessa niente Mi interessava solo quella di Masterchef con una skin veramente a parer mio bellissima Un'icona dei videogiochi Quindi avere anche la variante nera veramente tanta tanta roba Quindi vi lascio il link comunque del sito per fare il tutto È molto semplice Seguite i passaggi Basta cercare Fortnite Vi dovrebbe apparire subito Installatelo Fate l'account Microsoft E il gioco ragazzi è fatto Subito un bel like Condividi il video con i tuoi amici per farlo sapere E mi raccomando iscriviti Bella Ciao